Ciao a tutti, nel video di oggi vi mostro come creare un logo, un marchio su The Crew 2. Allora per prima cosa entriamo nella sezione Crea Livrea, questi sono quelli che io ho già creato, mi è stato chiesto di creare, di mostrare come ho creato il logo dell'Adidas. Adesso vi faccio vedere velocemente come si crea. Allora per prima cosa vi consiglio di passare alla modalità 2D. Ok, una volta fatto questo iniziamo a creare il logo. Io adesso per comodità prendo il logo che avevo già creato. E così seguo quello, adesso velocemente creo il logo, vi mostro come si crea. Vi consiglio come in questo caso di creare magari prima la parola e poi dopo di creare effettivamente il simbolo e di unire il tutto in un unico logo. Ecco adesso io lo creo un po' velocemente, chiaramente, cioè perché uso quello che avevo già creato come base, lo creo adesso velocemente, appunto per fare in modo anche che il video non diventi troppo lungo. Chiaramente per realizzare un logo ci sono loghi più semplici, alcuni più difficili e comunque ci vuole del tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora che la parola è quasi completa passo alla realizzazione del simbolo dell'Adidas. lo creo, ripeto, molto velocemente, non sto qua adesso a crearlo precisamente, anche perché io comunque l'ho già creato, quindi solo per mostrare come si fa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.